Basta politica sul sangue dei popoli ma ricerca del dialogo, la cruciale questione della cittadinanza e la sfida dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti per costruire la pace e la linea tracciata dal presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori del Summit dei Vescovi del Mediterraneo, riuniti da ieri a Bari. Nel Padre Nostro ho chiesto al Signore che tutti coloro che vivono sulle rive di questo immenso lago di Tiberiade allargato possano chiamare l'unico Dio come Padre e questo sarebbe già un segno di pace perché vorrebbe dire credere e accogliere nel nostro cuore e tutte e tre le religioni che nascono dal seme di Abramo, quindi la religione ebraica, la religione cristiana e musulmana hanno questa concezione di Dio Padre, di Dio Providenza, di Dio Misericordioso. Basterebbe che entrasse nel cuore questo insegnamento profondo e fosse messo in pratica, sarebbe la pace non solo nel Mediterraneo ma su tutto il mondo. Il nostro capoluogo di regione è simbolo e città di frontiera, ponte tra Occidente e Oriente, luogo dove tutte le chiese si sono riunite per parlare di pace, riscoprendo il significato di una comune appartenenza al Mediterraneo per mettere a fuoco una profezia di unità. La figura di San Nicola che ci riporta tutto l'Oriente, ma poi veramente Bari, anche per la sua civiltà, è il baricentro del Mediterraneo. Si pone come ponte tra l'Oriente e l'Occidente, si affaccia sul Mediterraneo e per la presenza di San Nicola, che è il portatore di un messaggio di tolleranza, di integrazione, di accoglienza e di pace. Di questo noi barissi siamo onorati e speriamo che da questa città parta, attraverso questa preghiera collettiva, fino alla messa di domenica, un messaggio di pace che possa raggiungere i potenti del mondo, ma anche i singoli cittadini. Siamo emozionatissimi e felicissimi di tutto questo. È chiaro che si sta compiendo una profezia di questo, per certi versi credo che si parli e si parlerà in questo sinodo di Vescovi. Tanti anni fa Giovanni Paolo II, quando venne qui a Bari, affidò un compito alla città e alla regione, quella di essere il luogo dove costruire il dialogo anche ecumenico, ma anche interreligioso, tra tutte le genti del Mediterraneo. Dallo scambio fraterno di queste cinque giornate, che culmineranno nella visita di Papa Francesco, domenica 23 febbraio, scaturirà un documento finale che sarà consegnato al Pontefice, nella speranza, ha detto il presidente della CEI, che il cammino intrapreso continui e si rafforzi.